A poche ore dalla consegna del tapiro d'oro a Fabrizio Corona, questa sera sarà la volta di Nunzia de Girolamo. La conduttrice di Avanti Popolo, accusata di censura dallo stesso Corona, avrà modo di parlare con Valerio Staffelli per la prima volta dopo la famosa puntata delle rivelazioni dell'ex re dei paparazzi. Nell'ultima puntata di Avanti Popolo, andata in onda su Rai 3 martedì 17 ottobre, Corona avrebbe infatti dovuto nominare altri calciatori coinvolti nel giro delle scommesse, esattamente come aveva promesso ai suoi fans, ma le cose non sono andate esattamente così. L'intervista di Corona è stata chiusa prima che potesse fare i tanto declamati nomi. Da lì il famoso post, qui i dettagli, che l'ex re dei paparazzi ha fatto nel dopo puntata, affermando di essere stato censurato dalla Rai. Dal momento che il materiale che aveva dato alla redazione del programma non era stato trasmesso. Stando alle anticipazioni divulgate da TVblog e davidemaggio.it, nel corso della consegna che andrà in onda questa sera, giovedì 18 ottobre, pare che Staffelli abbia chiesto alla De Girolamo quali siano le sue intenzioni con Corona e se abbia in progetto di invitarlo nuovamente ad Avanti Popolo. La presenza di Corona nella prossima puntata del programma potrebbe infatti rivelarsi utile per chiarire quanto è emerso martedì scorso e sgonfiare la polemica che si è creata intorno a questa spinosa faccenda. A quanto pare la conduttrice ha lasciato aperta la porta del programma di Rai 3 all'ex re dei paparazzi. Sempre che lui sia d'accordo e che abbia nuovi elementi da mostrare al pubblico circa l'inchiesta sul calcio scommesse. Per concludere, la De Girolamo avrebbe anche approfittato dell'occasione per chiarire che non ci sarebbe stata alcuna censura nei confronti di Corona e che semplicemente il materiale presentato dall'imprenditore fosse troppo per poter essere visionato dalla produzione in tempi brevi.